E' terribile perdere 1-0 Ma mister, mi voglio giocare, se mi impegno possiamo ancora vincere Tu non te devi impegnar che los alemanos, los tedescos, giocano muy duro Non se puede rischiare un accidente que te compromette todo, todo el campionato Ma mister, no puedo restare in mezzo al campo sin tocar la bala Se puede, se puede, se puede Ascolta, al primero contrasto, tu te butti per terra e domandi el letivo Così io te posso sostituir senza scatenar lo finimondo, intendi? Ma mister, mi no No, mister, che tenga, es un ordine, es claro? Le squadre sono entrate in campo e non ci sono state variazioni nelle due formazioni